Buonasera allora con Paola Egonus, confitta del Club Italia per 3-0, ma oggi la migliore in campo sei stata tu, una grandissima prestazione. È stata una bella partita, mi piace per i risultati perché ci tenevo molto, però continueremo a lavorarci. Il Club Italia l'anno scorso ha messo in difficoltà molte squadre, l'abbiamo capito sarà così sicuramente anche quest'anno. Quali sono i tuoi obiettivi, la tua carriera personale ovviamente, grande la prestazione anche in nazionale, quindi che cosa ti aspetti da questo campionato? Beh, sinceramente continuare a migliorare e che le squadre non ci sottovalutino, perché comunque siamo una bella squadra, credo in noi stesse, quindi spero bene. Noi naturalmente te lo auguriamo, ti facciamo ancora i complimenti per la partita di questa sera. Grazie.